Preso il via, infatti, oggi la sesta edizione di EcoMob, la fiera della mobilità sostenibile, del turismo esperienziale e della green economy. Sono circa 200 gli espositori che in questo weekend animeranno Piazza della Rinascita a Pescara, tutto a Corso Umberto, con tutta una serie di stand per far conoscere alla comunità tutto ciò che è green, tutto ciò che è rispettoso dell'ambiente. Ci saranno però anche tanti incontri, approfondimenti su varie tematiche, della sicurezza stradale alle città smart e tanto altro ancora. C'è anche un momento di spettacolo domani sera alle 19 con il cabaretista di Zelig, Diego Parasole. Insomma, tre giorni di approfondimento su temi molto delicati, sesta edizione rispetto alla prima ci ha raccontato questa mattina uno degli organizzatori, Gianluca Gianlorenzo, c'è anche maggiore consapevolezza nelle persone che vengono a visitare queste fiere e soprattutto c'è la coscienza della necessità sempre più impellente di rispettare l'ambiente rispetto alle minacce, non solo quella del riscaldamento globale, ma insomma temi importanti da approfondire e intanto, come vedete, tanti stand di aziende che si sono in qualche modo convertite al green. Ripetiamo, da oggi e per tutto il weekend a Piazza Salotto e Corso Umberto a Pescara.